Così come era stato ampiamente annunciato sull'isola d'Ischia, quella che sta per terminare è stata una Pasqua di serrati controlli da parte delle forze dell'ordine, impegnate a far rispettare i decreti restrittivi emanati dal presidente del Consiglio Conte e le ordinanze del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e dei sindaci dell'isola d'Ischia per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. Sui portici si è accertati che nessuno giungesse ad Ischia senza comprovati motivi di urgenza, mentre lungo le strade che nessuno uscisse senza un motivo valido. E il dispiegamento di uomini e mezzi è stato davvero elevato. Tra pattuglie, motovedette, elicotteri e droni l'isola è stata passata al setaccio come non mai. Da giovedì a oggi non si sono superati i mille arrivi e altrettante partenze. Tra sabato e domenica non sono sbarcate più di 120 persone al giorno, più o meno lo stesso numero di persone ha poi lasciato l'isola. Come era ampiamente prevedibile, nessuno ha trascorso la Pasqua in vacanza a Ischia, si sono spostati soltanto sanitari e forse dell'ordine pendolari. Nessuna problematica è stata riscontrata presso i porti, lo stesso si può dire per le strade e le campagne. Il 99,99% degli schitani si è comportato in maniera egregia e chi si è spostato immotivatamente è stato eventualmente sanzionato. L'isola è stata rettelamente blindata a terra, in aria e in mare. I comportamenti sbagliati sono eccezioni rarissime. Carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardia costiera, ciascuno ha dato il proprio contributo, compresa la polizia municipale e dei vari comuni, molti dei quali dotati anche di drone. La sorveglianza è stata massima, ma Ischia era deserta. Strade, spiagge, campagne, qualche trasgressione forse nell'ambito di qualche vicinato, ma neanche più di tanto. L'isola e i suoi abitanti hanno mostrato ancora una volta grande senso di irresponsabilità, ma un'isola così bella speriamo di non vederla più così vuota.